Si era appropriato di materiale del valore di oltre 15.000 euro, ma è finito nella rete dei carabinieri. Un dipendente infedele della Vimar di Marostica è stato arrestato dai militari della compagnia di Bassano del Grappa per furto pluriaggravato. L'intervento dei carabinieri era stato richiesto da un dirigente dell'azienda che aveva notato l'operaio uscire dalla ditta al termine del proprio turno con uno zaino molto pesante. L'uomo ha svuotato lo zaino davanti ai militari che hanno potuto così recuperare vario materiale della Vimar, fra cui 40 prese elettriche, 100 biprese, 8 comandi per tapparelle, 9 termostati, 20 alimentatori usb e 40 interruttori bipolari. In casa del dipendente venivano rinvenuti due enormi scatoloni contenenti attrezzature Vimar, fra cui 85 termostati, 30 citofoni, 15 lampadine, placche, interruttori, deviatori, tasti, biprese, diffusori sonori, spie luminose e radiocomandi, viti e altro ancora, per un valore complessivo di oltre 15.000 euro. Non è tutto perché l'arrestato vendeva sui social il materiale sottratto all'azienda. Il giudice ha convalidato l'arresto.